Poco fa, passando in mezzo a voi, ho incrociato sguardi pieni di gioia, pieni di speranza. Grazie per questo abbraccio così intenso e bello che dà chi vuole allargarsi a tutta l'umanità, specialmente a chi soffre. Mai dobbiamo dimenticare le persone che soffrono. Il titolo che avete scelto per il vostro incontro è infatti Abbraccia aperte. L'abbraccio è una delle espressioni più spontanee dell'esperienza umana. La vita dell'uomo si apre con un abbraccio, quello dei genitori, primo gesto di accoglienza, a cui ne seguono tanti altri che danno senso e valore ai giorni e agli anni fino all'ultimo. Quello del congelo dal cammino terreno. E soprattutto è avvolta dal grande abbraccio di Dio, che ci ama, ci ama per primo, e non smette mai di stringersi a sé, specialmente quando ritorniamo dopo esserci perduti, come ci mostra la parabola del Padre Misericordioso. Cosa sarebbe la nostra vita e come potrebbe realizzarsi la missione della Chiesa senza questi abbracci? Grazie. Grazie.